Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, come promesso confrontone tra Xiaomi 13 Ultra, 13 Pro e 13T, il nuovo arrivato, vi invito ad andare a vedere il video a lui dedicato, abbiamo fatto l'analisi Lightroom già con lui, un po' di sessioni di street, è già interessante il focus su di lui, ma è ancora più interessante secondo me andare a capire come si posiziona rispetto ai suoi fratelli maggiori. Lo sappiamo, c'è un ridimensionamento lato hardware per quanto riguarda la fotocamera, però nell'analisi approfondita su di lui ha tirato fuori degli scatti molto interessanti, c'è qualcosina che mi convince un po' meno a livello di esperienza d'uso, ve ne ho parlato nel video dedicato, vediamo in questo confronto che cosa succede. Facciamoci un po' di street e poi andiamo a casa e come sempre ci buttiamo su Lightroom per vedere i file RAW, scatterò in RAW con tutti i parametri impostati in automatico, così vediamo anche la lettura degli scenari che loro vanno a fare da soli, come cambia da un modello all'altro. Tutte e tre disponibile il click rapido per andare ad attivare la fotocamera, scusate ho sbagliato, eccolo qui. Mi piace del T che l'interfaccia sia in tutto e per tutto presa di peso dall'Ultra, che è differente rispetto a quello che ci propone il Pro, che è un modello uscito un po' prima e quindi ad esempio non ha lo swipe down per le funzioni rapide, mentre loro due ce l'hanno. E poi ad esempio è proprio diversa un pochettino a livello di grafica, ad esempio qui e sul T, Ultra e T abbiamo la selezione rapida delle ottiche, qui c'è un'interfaccia un po' più sperimentale che Xiaomi ha proposto in questo primo loro progetto insieme a Leica, più simile a quella del 12S Ultra, in realtà che è stato il primo vero telefono che hanno fatto insieme a Leica, dove devo premere qui e poi selezionare l'ottica. Non ho lo swipe down e anche un po' di altre piccole cosucce e finezze che condividono il T e l'Ultra. Il formato Super Raw è disponibile solo sull'Ultra, non è disponibile sul T così come non è disponibile sul Pro. Vi metto velocemente qui le differenze tecniche a livello di sensori, sappiamo abbiamo detto appunto che sul T sono tutti un po' ridimensionati, vi invito sempre a vedere il video a lui dedicato per capire un po' meglio un focus su di lui, partiamo col confrontone. Buttiamoci subito su Lightroom, sono proprio felice di aver fatto questo confronto perché ora emergeranno delle cose secondo me molto interessanti, sul perché il 13T è molto più interessante di quello che ci potevamo aspettare e soprattutto sul perché il 13 Ultra gioca in un'altra categoria. Vediamoci subito il confronto. Voglio portarvi pochi scatti ma emblematici diciamo di quella che è stata un po' la mia esperienza. Vi posiziono a sinistra sempre il 13T e a destra il Pro o l'Ultra, ve lo dico io insomma in base a quello che è selezionato al momento. Voglio partire da questa mezza figura barra mezzo primo piano che mi è stato fatto. Il T 50 mm, il Pro 75 mm, quindi notate sicuramente una evidente differenza a livello di focale, rapporto con lo sfondo, sfocato, tutto normale. A livello di gestione dello scatto, secondo me, volutamente ho fatto questo scatto in una situazione difficile, il sensore sforza molto perché io ero in Umbra e sullo sfondo abbiamo il cielo, è una situazione molto più aperta. Scatti sempre un po' più caldi sul T, questo lo noterete in tutti gli scatti rispetto al Pro che ha una tendenza un po' più bluastra, lo vediamo soprattutto nella maglietta, un po' più verso il magenta per quanto riguarda un po' tutta la tinta dello scatto sul T. Un po' più bluastra quella del Pro. Forse è un po' più fedele il T se faccio riferimento alla maglietta che poi è quella che sto indossando in questo momento. E vi voglio sottolineare adesso una questione invece legata alla qualità dei vetri, del dettaglio. Guardate qui, prendo come, diciamo, reference il nostro microfonino Holland Lark Max che avevo con me. Fatemi un attimo tirar fuori, allineare il Pro che ha un po', diciamo, ha un po' voluto preservare la situazione ma dopo ci guardiamo anche il livello di recupero. Vi ricordo che io scatto lasciando tutto in automatico per effettuare questi test, modalità Pro, RAW, attivo, tutto in automatico. Guardate il livello di dettaglio, è abbastanza simile. La risoluzione è abbastanza simile, sono allineati, non ho fatto lavorare nessun sensore a 50 megapixel pieni, anche perché sul teleobiettivo non possono farlo. Se vado a vedere un po' la riproduzione delle texture, un po' il risultato in termini di dettaglio, tra il T e il Pro è molto molto simile. Vi faccio vedere l'Ultra, guardate che differenza abissale nella riproduzione del dettaglio. Adesso sono passato all'Ultra, crop sempre abbastanza pesante. Guardate che differenza abissale. Maglietta, scritta, Holy Land, lente della GoPro. L'Ultra gioca veramente in un'altra categoria, vi faccio uno switch da Ultra a Pro, guardate qui. Un'altra categoria in termini di qualità dei vetri, quindi capacità di riprodurre texture molto piccole e di mantenere un buon livello di dettaglio in maniera piacevole, senza andare a creare artefatti, eccetera. Gioca proprio in un'altra categoria, ve lo faccio vedere rispetto al T. Abbiamo un taglio un po' più largo sull'Ultra, scusate, eccolo qui. Abbiamo un taglio un po' più largo, non so perché è dichiarato 75 mm come il Pro, ma questo è il Pro e questo è l'Ultra, quindi in realtà è un po' più ampio. Nonostante ciò, sensore più grande, bellissimo sfocato. Anche lui ha fatto una lettura un po' più conservativa rispetto all'esposizione sul soggetto, cercando di preservare il più possibile un equilibrio tra basse luci e alte luci. Vi faccio vedere, tolto questa cosa del dettaglio, che voleva essere molto esplicativa sul perché, perché poi magari negli altri scatti non si nota molto, ma è sempre presente, perché l'Ultra gioca proprio in un'altra categoria. Vi faccio vedere come hanno, facendo un recupero identico su tutti e tre, che cosa viene fuori. Questo sono il T e il Pro. Ho applicato lo stesso livello di recupero ad entrambi. E questo è un po' quello che emerge. Comunque se la giocano, il T, secondo me, lo ribadisco, l'ho detto anche nel video a lui dedicato, che vi invito ad andare a vedere dopo, con questo 50 mm può tirar fuori delle cose molto molto carine. Non è male, ma, diciamo, l'Ultra e il Pro si posizionano, secondo me, nei teleobiettivi più, non più interessanti presenti su smartphone, ma proprio sono i due migliori con cui poter lavorare, specialmente quello dell'Ultra. Vi faccio vedere, ad esempio, questi ritratti che ho fatto in Palestina. Questa non è la modalità ritratto, ragazzi. Questo è il 75 mm dell'Ultra. Guardate che sfocato che tira fuori, guardate il livello di dettaglio. È una cosa che neanche col Pro avrei potuto ottenere. Sta proprio ad un livello molto molto estremo. Per ribadirvi questa cosa, vi mostro quest'altro scatto a questa gatta. 13T a sinistra, 13 Pro a destra, focale più stretta. Sta a livello di dettaglio molto simile tra i due, quindi ribadisco che il T può tirar fuori delle cose molto carine con questo teleobiettivo. Sempre un po' più calda la resa in generale, lo vedete, il pelo, la differenza di pelo. Questo è l'Ultra. Vi faccio notare, intanto lo sfocato. Assolutamente maggiore rispetto a, non solo al T, ed è normale, abbiamo una focale più larga, ma soprattutto rispetto al Pro. Questo è il Pro. Vi metto un attimo il Pro qui a sinistra. E questo è l'Ultra. Guardate, l'ho sfocato dietro alla gatta. Direi che non devo aggiungere altro. Ma poi anche a livello di dettaglio. Guardate il Pro come su queste texture difficili va a fare del micromosso, si impasta un pochettino. Insomma, in uno scenario non favorevole, crea un po' di casino. Mentre l'Ultra è assolutamente impeccabile in ogni punto della lente. È veramente pazzesco questo telefono. Ve lo rimetto in confronto ancora con il T. Anche il T un po' soffre, diciamo, su queste texture particolari del pelo della gatta. Mentre l'Ultra è tagliente e piacevole, soprattutto a livello di dettaglio. Quindi, scontato dirlo, basterebbe leggere le schede tecniche, ma più interessante vedere tra sfocato e dettaglio perché c'è questa differenzazione che non è soltanto un nome messo lì e una scheda tecnica pompata a caso. Ottimo lavoro di Xiaomi. Andiamo sulla camera principale. T a sinistra e Pro a destra. Un po' più largo l'angolo di campo. Il Pro un 23 mm equivalente. Il T a un classico 24 mm. Resa sempre un po' più calda. Secondo me sul sensore principale, ragazzi, le differenze non sono così tanto marcate. Chiaramente il sensore da un pollice, quando lo si ha, poi non si vuole più tornare indietro. Ma è su alcuni scenari particolari che chiaramente emerge il vantaggio. Una mezza figura, un benzobusto ci crea quello sfocato in più, a cui lo smartphone non ci abitua solitamente. E quindi esce fuori il vantaggio di avere il sensore da un pollice. Sicuramente un po' più di pulizia nei dettagli più piccolini. T, Pro, emerge questa cosa. Se la giocano comunque molto, secondo me c'è una grande qualità anche sui materiali utilizzati per le camere di questo T. Un po' sovraesposto il muso della Renault, ma sono sicuro che entrambi, eccolo lì, questo è il Pro, esce fuori. Questo è il T, esce fuori senza nessun problema. Ripristiniamolo un attimo perché vi voglio far vedere, se passo al Pro, all'Ultra, scusate, come anche qui sul sensore principale, emerga una differenza notevole. A parte qui c'è stata una lettura migliore, ha mantenuto tutti i dettagli sulle alte luci della mascherina della macchina. Ma poi si vede proprio nel dettaglio dell'asfalto e di questo bastoncino e queste erbacce a terra, la superiorità della qualità dei vetri dell'Ultra, che quindi, come dire, costa anche giustamente 500 euro in più. Ma questa cosa è giustificata proprio da queste piccole grandi migliorie che lo posizionano in un'altra categoria rispetto a tutti gli smartphone presenti sul mercato. Sul canale è trovato un sacco di confronti, confronto anche con iPhone sia RAW che JPEG, dove invece lì ancora abbiamo visto che iPhone è abbastanza incontrastato. Questa è la resa dell'Ultra, questa è del T. Sono molto più allineate rispetto a ciò che tira fuori il Pro, che va sempre su un tono un po' più freddo, quindi è come se su questo T, oltre all'interfaccia che abbiamo visto all'inizio, si sia seguito un po' anche tutta l'evoluzione che ci sarà stata a livello di scienza colore, calibrazione e gestione del file RAW, che ci ritroviamo su questo T. Quindi un vantaggio secondo me non da poco e questa era un po' una panoramica generale sul sensore principale. Passiamo all'Ultra Grande Angolare, su cui non ho mai moltissimo da dirvi, ora vi spiego il perché. Eccoci qua. Anche qui resa più fredda sul Pro, che vi ho posizionato come sempre adesso a destra. Non ho mai granché da dirvi perché, lo sapete, per me le ultrawide sono ancora un po' troppo limitate su smartphone. Deformazione ottica abbastanza simile su entrambi, forse un po' più accentuata sul T, ma forse no, in realtà è l'inclinazione del telefono. Scatta sempre un po' più caldo, l'abbiamo detto. Vediamo il dettaglio. Esposizione molto simile. Molto molto simile. Vediamo il dettaglio, ad esempio, su questo portone. Non so se emerge da YouTube. Un po' più pulito lo scatto dello Xiaomi, che se non erro monta un sensore più grande su questa focale. Quindi ci può stare un po' più di pulizia di immagine. Vediamo l'Ultra. Allora. Da qui sembrano molto simili. Vediamo, ad esempio, questa scritta bar. Posizionata poi ai bordi dell'ottica. Secondo me c'è sempre quel vantaggio dato dall'utilizzo di vetri più definiti delle ottiche. E sì, secondo me, un po' al di là dell'esposizione, ma emerge proprio un dettaglio maggiore. Vediamo rispetto al Pro. Vi metto il Pro a sinistra. Idem. Idem. Si trascina un po' su tutte le focali questa cosa. Secondo me vediamo aberrazioni cromatiche. Aberrazioni cromatiche. Vediamo il T. Ad esempio qui sicuramente. Eccole lì. Esce fuori qualcosina. Il Pro molto pulito. Molto pulito il Pro. Sorprendentemente pulito. Pochissimo. Pochissimo. Bassissimo livello di aberrazioni cromatiche. Vediamo l'Ultra. E l'Ultra, l'Ultra ha problemi inizio di A. In questo caso, ad esempio, a livello di aberrazioni, con mia sorpresa, il Pro che è questo, è quello che ne esce meglio. Mentre l'Ultra soffre un pochettino e il T ne soffre anch'esso un pochettino. Vediamoci un recupero sulle alte luci. Su questo scenario siamo con i teleobiettivi. 50 mm del T a sinistra e 75 del Pro a destra. Lettora dei scenari molto simile. Vediamo come recuperano queste alte luci. Iniziamo proprio dal Pro. Facciamo che butto giù le alte e il cielo esce fuori senza problemi. Vediamo il T. Direi che... Sì, ci siamo anche sul T. Un po' più opacizzato già però. Vediamoci l'Ultra. Che è questo. Ok. Allora, rimettiamo T e Pro. Questo è con un recupero assolutamente spartano fatto sulle alte luci. Secondo me si avverte un po' di sofferenza sul T. Va ad opacizzare già un pochettino a faticare a tirar fuori in maniera vivace i dettagli. E poi anche, voglio vedere le aberrazioni cromatiche su questo lampione. Sempre ottime sul Pro. Se la giocano in realtà c'è qualcosina. C'è qualcosina. Vediamo invece rispetto all'Ultra. Ok. L'Ultra sicuramente ha un recupero più valido. Valido e ci sta. Il sensore è più grande. E ad occhio fa un lavoro migliore anche sulle aberrazioni cromatiche. Vediamo. Sì, non male. Non male. Vediamo rispetto al Pro. Metto il Pro a sinistra ora. Sì, guardate ad esempio qui il Pro. Che cosa combina? Mentre l'Ultra è molto più pulito. Poi anche, vediamo, il dettaglio. Superiore sull'Ultra. Sì, decisamente meno impastato. Vediamo invece se metto il T. Vabbè, la focale è differente, quindi ci può stare. Però, insomma, dettaglio molto superiore sull'Ultra. Non mi dilungo molto, ragazzi, con il confronto. Vi ho voluto portare i primi tre esempi, secondo me, emblematici. Teleobiettivo, camera principale e Ultra Wide. Secondo me la conclusione è molto semplice. Questo T si posiziona esattamente dove si deve posizionare. Ovvero può essere una valida alternativa alla serie 13 classica, anche al 13 Pro, volendo, con qualche piccolo limite, ma anche qualche piccolo vantaggio. interfaccia aggiornata, una scienza colore forse un po' meglio calibrata. 50 mm rispetto al 75, che, l'ho già detto nel video da lui dedicato, non è né un vantaggio né uno svantaggio. È semplicemente una scelta, se vogliamo, e può portare con sé, in determinate situazioni, dei vantaggi. Puoi avere una focale da 50, piuttosto che da 75. Soprattutto un prezzo che sappiamo essere di listino più basso, e soprattutto col tempo, la serie T di solito è soggetta a sconti molto interessanti. Quindi vi potete portare a casa, ad un prezzo ridotto, tutta una fascia di opzioni, di filosofia d'approccio, di cose, che riguardano il mondo top di gamma Xiaomi e Leica. Rispetto invece all'Ultra, chiaramente, ma questo era, ed è ovvio che sia così, si gioca proprio in un'altra categoria. Ma l'Ultra, ragazzi, lo sapete, ormai ci ho lavorato veramente tantissimo, l'ho confrontato a tantissimi smartphone. Secondo me ha segnato proprio un punto di svolta per questa tipologia di approccio fotografico e di ricerca della fotografia anche su smartphone. Sicuramente non è il puntescatta più eccellente, più prestante, sicuramente lato video ancora si fatica, ma se si ricercano certe cose è la scelta migliore in assoluto, senza possibilità di concorrenza. Ed è bello, secondo me, vi riporta un discorso che ho fatto qualche video fa, cominciare ad avere anche negli smartphone una differenziazione, nel senso che, un po' come succede con le camere, non tutte le camere sono pensate per tutto. Io oggi, ad esempio, vi porto il mio esempio più concreto. Sono stato un mese fa in Palestina per un viaggio importante e mi sono portato sia Ultra per iPhone con l'intento proprio di utilizzarli in modalità differenti. Ho fatto una serie di ritratti statici, preimpostati, dove mi prendevo il mio tempo col soggetto, con una piccola luce, eccetera. Li ho fatti con l'Ultra perché quella resa che vi mostro e che ho ottenuto è irreplicabile con qualsiasi altro smartphone. Perché ho bisogno del sensore più grande per avere quello sfocato, perché la lente così di qualità ce l'ho solo sull'Ultra, perché il profilo colore, l'incarnato, la lavorazione che sono riuscito a fare in post, la riesco a fare solo con i file con l'Ultra. Quindi tutto un approccio più lento. Per il puntè scatta e una street comunque di qualità e affidabile avevo il mio iPhone, ad esempio. Vi porto questo esempio. Quindi inizia a crearsi almeno in me questa sensazione e differenziazione che male non fa, secondo me, se si ricerca appunto una miglioria vera e professionale anche nell'ambito della fotografia da smartphone. Detto ciò fatemi sapere nei commenti le vostre conclusioni, cosa ne pensate di questo nuovo 3DCT e di questi Xiaomi. Che quest'anno secondo me non hanno rivali in attesa di iPhone 15 a questo punto che non vedo l'ora di provare e confrontare. E a breve avremo il nostro bel confronto su Lightroom anche tra Ultra, 13 Ultra e iPhone 15 Pro o Ultra? Chi lo sa. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.